Bentornati su MyFootballJersey, l'avrete già riconosciuta? Questa è la prima maglia dell'Ajax ovviamente per la stagione 23-24 in edizione FUN! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info L'Ajax ha per me un grandissimo fascino, da sempre, e questa maglia mi piace molto. Il costo, lo vedete qui sopra, secondo me si commenta da solo, non aggiungo altro. Vi ricordo che per ordinare la maglia trovate tutti i riferimenti qua sotto in descrizione. Andate a vedere perché c'è anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari, quindi il costo diminuisce ulteriormente. Prima di lasciarvi, se volete avere sempre nuove recensioni, mi raccomando iscrivetevi. A voi non costa niente, ma ci permette di mostrarvi sempre nuove maglie. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FUN! Ciao! Ciao! Grazie a tutti.